Allora, eccoci qua, abbiamo creato Lady Ariella Ferry, lol! Allora, la sala del trono bisogna arredarla con la tesoreria. Allora, posso affrontare delle missioni, i primi passi, ok? Dopo la prendenza della sala del trono, è dopo la realtà, ok? Ora, l'unica cosa di cui Spissule aveva bisogno era un sovrano, qualcuno abbastanza saggio e prudente e potente da unire la gente per la causa del regno. Ok, seleziona un approccio, consentono usare approcci diversi, man mano che nel tuo regno appaiono i nuovi eroi, aumentano gli approcci disponibili per le missioni. Però, per i primi passi esiste solo un approccio, seleziona se lo costruisci, ok? La stima, va bene. Bottino della missione, i punti risorse, i punti esperienza e la grana, ovvero i simoleoni. Se ci sono, eh? Magari non ha cambiato anche la moneta, va. Allora, selezioni di missioni arriveranno, finalmente la grandiosa sala del trono è diventata realtà, erano stati piantati i semi di nuovo, ora, ecco, costruire un regno da zero non è fatta facile. Il pan è giusto. Eccoci qua, questo è la nostra. Oh, vediamo se ci può ruotare. No. Fammi ruotare là. Così, ah, ecco. Eccola qua. Vai qui. LOL. Ok, possiamo togliere i muri. Ah, il piano superiore, ecco, il piano superiore. Guardate. Guardate. Vediamo. Ecco, possiamo amicinarci. Lì sta ascoltando Ariella Feri. Bremfim vettine, gorg, veta. Sanif, quodei, graus. Rolam, darib, tescima. Allora. O mei, banassil, dorsin. Puoi fare ciò che vuoi, non ci sono responsabilità. Bene. Vemav, vivarim. Abbiamo solo la fame e l'energia. Fralim, turune. Vadaita, reda. Ecco, vediamo un pochino l'arretamento. Abbiamo. Ecco, il calderone dei cuochi. La botte di vino. Robè, no. Girarrosto per vettoviglie. Caminetto giacobino. Secchi per lavarsi. Ecco, queste sono le docce, le vasche del medioevo. Intrattenimento. Non abbiamo robe troppo elettroniche. Il tavolo da gioco in vino. Fortuna fuoco. Un professionale. Il tavolo da scrittura. Il tavolo operatorio. Il tavolo, ecco. La forgia. Il parco dei bardi. Quante robe. I bambini, invece. Sono sempre i classici. Allora, le superfici. Tavoli da pranzo. Tavolini, altari, scrivanie. Superfici varie. Comfort. Abbiamo i lettini. Sale da pranzo, da soggiorno, divani, sgabelli. Troni. Ecco i troni. Illuminazione. La candela da tavolo. Supporto per ceri rastremato. Poli candela. Wicce in culta. Decorazioni. Specchi, tende, tappeti. Sculture. Divisori per stanze. Ok. E qua abbiamo una bella modalità. E poi c'è la modalità, ovviamente. Regno. Che mi fa uscire, mi sa. Dalla casetta. Ah, ecco. Ecco. Ho appena vinto un'ottima prova di forza contro un uomo bello aggressivo. Però, qua abbiamo la nostra missione. Se voglio parlare con i miei sudditi, mi devo sistemare. Quindi, ovviamente, andiamo al piano di sopra. Interazioni non disponibili. Allora. Datti un assiste. Allora. Ecco. Adesso la signorina va a sistemarsi allo specchio. Eccola lì. Attenzione. Vero, Dive. Si sta sistemando comodamente al fuoco. Ecco, questa è una cosa positiva. Un elemento positivo e confortante che stimola la diuresi. E aiuta a sistemarsi meglio, a avere un approccio con lo specchio. Quindi, ad attivare questo tipo di carisma. Ah, vio. Si è sistemata in questo modo. Nel senso, si è guardato allo specchio. Andiamo a parlare in maniera amichevole. Impara a conoscere. Ecco, impara a conoscere. Eccolo qua che parla. Attenzione. Non l'ha caccata neanche di strisce. Ecco. Attenzione. Ecco. Allora, sono una monarca. Mikaki. Vediamo le altre versioni. Invia alla fossa. Attenzione. Invia alla goglia. L'ho. Perfido. Chiama canagna dai jocchi lattici. Chiama infame senza celebro alcune. Sputti in faccia. Sminuisci la massività. Schermisci l'aspetto. Romastico. Magnifica le sue virtù. Corteggia. Loda il suo aspetto. Concedi il favore. Discuti nel castello. Ah, ecco. Sono la monarca e devo andare a raccogliere la legna. Non posso mandare il terrone di quello lì che sta facendo un... Eh. Vabbè. Ora è il momento di andare nella foresta perché bisogna raccogli... Togli questo. Ecco. La foresta. Vai alla foresta. Ok. Scopri. Ha scoperto i fiori selvatici. Attenzione, abbiamo un bandito. Un cazzo di bandito abbiamo. Quindi la situazione comincia a scaldarsi. Ecco, il bandito che ha intenzione ostile e noi come monarca siamo andati a raccogliere fiori in solitudine. Così, sprezzanti del pericolo, senza nessun tipo di guardia. Vabbè. Attenzione, adesso devo sfidare a duello il bandito. Quindi facciamo. Monarca sfida a duello. Minaccia per denaro. Come Nemp. Va Rexis. Ah, a pugni. Gianna Ish. Posso interagire in qualche modo? Cattiva. Dai. Non ce la va più. Trianfo ai banditi potrebbero diventare un vero problema per Spissume. Ma un cavaliere o una spia sapranno impedirlo. Ora posso raccogliere legne in pace. Eccolo qua. Amiche. Ah, posso. Quindi è stordito in pratica. Posso fare. Posso essere perfido e chiamarlo canaglia dagli occhi lattiginosi. Non posso farlo perché ovviamente è steso. È stecchito. Possiamo raccogliere della legna. Allora. Raccogli del legno. Che. No. Che. Che. Grazie.